Dallo studio di via Paolo Borsellino a Fano, buongiorno a tutti e benvenuti alla resegna stampa di Fano TV Occhio e Giornali che come vedete si apre con una veste grafica tutta nuova, una sigla nuova, così sarà anche per il telegiornale di questa sera delle 20 e 30, allora spero che vi piaccia, avrete modo, avremo modo di farvela riascoltare da qui ancora in avanti e questa è la rassegna stampa comunque del mattino con i giornali, il tempo e anche il santo, il santo che comincia subito e anche qui abbiamo una bella veste grafica nuova, lo vedete, San Lorenzo, oggi è San Lorenzo, Diacono, il santo che ci porta questa sera a vedere le stelle, le stelle cadenti, l'alba alle 6 e 08, il tramonto sarà questa sera alle 20 e 24 e adesso il tempo. Avremo cielo sereno poco nuvoloso per la giornata di oggi con qualche addensamento come uniforme a ridosso dei rilievi meridionali durante le ore più calde della giornata, temperature senza variazione di rilievo, avremo il cielo sereno dunque anche durante la notte per garantire a tutti la possibilità di tenere il naso all'insù, magari di stendersi su un bel prato, di non avere tutto quell'inquinamento luminoso che purtroppo dà fastidio ma che vicino alle città, grandi città, è sempre più importante e dunque una giornata che trascorrerà comunque l'insegna del bel tempo così come sarà quella di domani, martedì 11 agosto, quando avremo cielo sereno poco nuvoloso secondo il bollettino della protezione civile delle marche con addensamenti pomeridiani soprattutto nelle zone montane. Ora tutto questo sarà, ripeto, nella costa e nell'entroterra ma sarà così anche per i prossimi giorni quando l'anticiclone dell'Azzorra garantirà comunque condizioni stabili nella prima parte della giornata. E adesso andiamo a collegarci come di consueto con il nostro bagnino, con Tommy che vedo qua già collegato. Buongiorno Tommy, con uno splendido sempre scenario. Buongiorno. Ti invidio tantissimo quando è così, io vorrei essere lì invece sono qua all'aria e condizionata. Come stai oggi? Come va? Benissimo, benissimo Marco. Abbiamo passato un weekend spettacolare, splendido. Anche oggi giornata bellissima. Dai, si prevede una bella settimana di ferragosto. Eh già, perché questa è la settimana di ferragosto. Avete il tutto esaurito? Assolutamente. Tutto esaurito? Eh sì, 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 assolutamente. Bene, allora grazie, buona giornata a te e ci vediamo domani. E adesso i giornali. I giornali con l'apertura del resto del Carlino. In Croazia ritorno con il virus, questo è il titolo d'apertura. Si parla del coronavirus. Contagiate due ragazze, un uomo di 57 anni. Tamponi a chi era con loro. Nelle Marche dunque sono 16 i positivi. A centropagina Buon Viaggio VL, via al ritiro. Inizia dunque una stagione piena di attese. E quest'anno, insomma, c'è sì attese, ma c'è anche visti i nomi che circolano, visto i colpi di mercato. Insomma, dovrebbe essere una bella stagione. Notte delle candele, speriamo bene. Occhio alle regole. Questa sera c'è la festa in bianco, nel senso tutti vestiti di bianco a Pesero. E poi la nuova strada, invece, la nuova strada che crea ancora polemiche, genera ancora polemiche, questa volta ad intervenire sul giornale, sono gli ambientalisti. Per quanto riguarda, invece, la cronaca, ubriaco record carambola su tre auto parcheggiate lungo la panoramica, mentre sotto monte multe. Primo weekend del tutor sulla statale. c'è questo nuovo aggeggio, Marchingegno, che è lì pronto a fotografare le targhe di chi supera il limite dei 50 km orari. Sponsor sportivi, tasse dimezzate, Bosco, così respiriamo, parla per quanto riguarda il calcio, la Vis, l'Alma, invece, Traini disegna il nuovo corso del Fano, prima però servono le conferme. Andiamo a vedere il Corriere Adriatico, le candele di questa sera che animeranno la spiaggia pesarese, candele sì, no alle maxi tavolate, mascherine, cena distanziati e niente balli, anche se ci sarà la musica. Tutte le disposizioni di sicurezza per San Lorenzo in spiaggia, l'ordinanza entra in vigore alle ore 18 e durerà fino a luna. L'ordinanza è quella di indossare le mascherine, vietati anche gli spettacoli, ma, come dicevo appunto, ci sarà la musica sorpresa, niente sosta a Levante. Si rifà la segnalettica, monta però la protesta. E poi, di taglio basso, le notizie in breve. Ubriaco alla guida, danneggia più auto e scappa senza una ruota. E poi a Fano, scogliere a Torrette e a Ponte Sasso. Si va in cerca di risorse. A Pergola, ladro seriale, tenta la fuga dalla finestra, inseguito ed arrestato. Il decreto di agosto, le marche si rivoltano, i soldi del Sud anche a noi. Ci risiamo, dunque, le marche, le marche sono dimenticate dal governo. I soldi vanno altrove, spesso al Nord, stavolta vanno al Sud. Il decreto agosto fa infuriare i presidenti di Camera di Commercio delle Marche di Confindustria e Marche. Anche noi, dicono, anche a noi, i soldi del Sud. Il sottosegretario Morani, Alessia Morani, dice, valutiamo se estenderlo alle aree di crisi complessa. E allora, abbiamo la questione del Covid. Covid-19 che ancora continua a far parlare di sé. E nelle Marche, in particolare nella provincia di Pesurbino, continua a farlo con i contagiati che se ne vanno in vacanza all'estero, poi tornano e tornano con un ospite indesiderato in più, ma non in valigia, nel proprio corpo. Ed è il Covid, appunto. La vacanza è contagiosa, il titolo del Carlino, il focolaio arriva dall'est. I tre positivi di ritorno dalla Croazia, si tratta di due ragazze e di un uomo di 57 anni che erano in Pullman. Sono nove i nuovi casi registrati in provincia, sui 16 totali delle Marche. Questo è un articolo che è scritto questa mattina sul giornale Roberto Damiani. Viaggiavano in Pullman, dicevamo, probabilmente nello stesso Pullman. Al rientro hanno avuto qualche sintomo dal controllo. Poi è stata acclarata la loro positività, il Covid. Così come nei giorni scorsi era risultato positivo un giovane pesarese rientrato dalle Canarie e che in pochi giorni poi ha contagiato anche i suoi familiari. Positivo anche un 43enne marocchino di rientro a Urbino dopo essere stato nel suo paese d'origine. Trovato positivo ancora un 39enne di Monte Labate portato al pronto soccorso di Pesero per essere sottoposto a ricovero coatto perché dava in escandescenza. Mentre scrive Damiani giustamente questa mattina che si è ridimensionato invece l'allarme per il focolaio di Monte Copiolo dove buona parte del paese, oltre 500 persone, è stato sottoposto al tampone. Ebbene di questi 500, soltanto 4 di loro, 4 residenti a Monte Copiolo, sono risultati positivi. E ricorderete, insomma, a Monte Copiolo l'allarme lì era scattato con questo focolaio per 37 persone di varie parti risultate positive dopo una festa e una cena che si sono svolte lì nel paese. Un sospiro di sollievo per gli abitanti e per coloro che hanno attività ricettive. Ma attenzione, è importante anche questo commento che adesso vado a leggervi, che ho evidenziato qui con il rosso, ed è il commento del dottor Augusto Liverani che è responsabile dell'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azio Area Vesta 1. dice che non si tratta di una recrudescenza del virus. Non è così. Stiamo convivendo con una pandemia mondiale e dunque le riaperture e i contatti tra i giovani portano dei rischi, ma sono del tutto marginali. Va fatta attenzione, ma nessuna paura. Le rianimazioni sono vuote. Ecco, questo è un concetto, è un discorso che stiamo cercando di farvi passare ormai da diverse settimane, anche attraverso la nostra rassegna stampa e che viene oggi così in qualche modo sintetizzata con poche parole incisive dal dottor Liverani. Andiamo adesso sulla pagina invece del Corriere Adriatico. Si allargano le quarantene, solo a Pesaro 9 positivi, contabilizzati 16 nuovi contagi su 1260 tamponi, ma nessun ricovero. 13 in corsia sono quelli che appunto gli operatori sanitari di questi, le origini delle diagnosi, rientri dall'estero, soggetti sintomatici e i casi domestici. I ricoverati nelle strutture sanitarie sono 13, nessuno in terapia intensiva. Dunque 13 in corsia, nel senso che sono quelli che sono finiti in ospedale, ma nelle strutture sanitarie, però non nessuno in terapia intensiva. Ora, qui c'è davvero una sfida questa sera, una sfida un po' per tutti. Intanto a non prendersi e beccarsi il virus, nel caso in cui ci sia qualcuno che non lo sa, ma se lo porta con sé e quindi potrebbe diffonderlo tra i commensali e tra i partecipanti di questa bellissima iniziativa, che è quella delle candele sul mare. E poi c'è la sfida anche tutta politica, se vogliamo, anche se qui non viene evidenziato, perché il fare, voler fare una iniziativa, ripeto, bellissima, nessuno ha intenzione di denigrarla, c'è solo una questione di opportunità. È il caso di farla, visto Monte Copiolo, visto quello che succede. Le cene sono belle, ma devono secondo me rimanere in famiglia, dove ci si conosce, si sa che cosa si fa, con chi si sta, e i rischi sono un po' ridotti, anche se poi abbiamo visto che anche in famiglia i contagi ci sono, e quindi vale come sempre il distanziamento. Ma distanziarsi in una iniziativa come quella che si sta per andare in scena questa sera a Pesero la vedo un po' dura. Comunque, andiamo con ordine. La sfida delle candele mascherina a distanza per cenare in spiaggia. Non si è voluto rinunciare alla tradizionale serata di San Lorenzo e le regole saranno rigide. L'ordinanza scatta alle 18 e durerà fino a luna. Qual è l'ordinanza? Quella che sappiamo benissimo, che dalle 18 in poi sarà obbligatorio indossare la mascherina anche nelle zone dell'evento, quindi anche in spiaggia. Con l'ordinanza che è stata emessa ieri dal sindaco Ricci e lo staff dell'iniziativa, vogliono indirizzare ad una serata in sicurezza, anche se molto dipenderà dal comportamento e dal senso di responsabilità di ognuno, siano i partecipanti famiglie, giovani e comitive, scrive Letizia Francesconi sul Corriere. Si ricorda che in caso di mancato rispetto dell'ordinanza sarà applicata una sanzione dei 403 mila euro. In occasione dell'evento, rigorosamente tutti i vestiti di bianco, sarà anche implementato il servizio bus navetta da e per la zona del mare, con la linea Mare Notturna e la prima partenza alle 19.30 da Baia Flaminia, successivamente ogni 15 minuti per Viale Trento Trieste e la zona del Porto. Significa, oltretutto, che i posti seduti sono già distanziati, ma è da evitare il fare gruppetti anche per un saluto o uno scambio di battute. Magari tra un tavolo e l'altro, così come è successo a Montecopiolo. Una cena di 70 amici che si rivedevano perché avevano trascorso l'infanzia insieme a scuola è niente più e ne meno di quello che succederà stasera. Magari non erano distanziati di un metro, magari erano uno vicino all'altro, però è bastata una donna, perché a Montecopiolo era una donna che non sapeva di essere positiva al coronavirus, che ha fatto probabilmente o il giro dei tavoli oppure è bastato che parlasse con i suoi vicini, i vicini un po' come il fiammifero che si accende uno attaccato all'altro e poi piano piano si accendono tutti. Ecco, questo è quello che bisogna scongiurare. E non è una cosa semplice. Ecco, quello che, secondo me, ma questo, ripeto, nessuno vuole fare l'occello del malaugurio, vedremo nei prossimi giorni quello che succederà, però questo non si è voluto rinunciare alla tradizione, alla tradizionale serata di San Lorenzo, e insomma la dice lunga. Adesso vediamo se invece, ma speriamo di no, che poi vada tutto bene, ma se era il caso invece di rinunciare. Addio alle tavolate, si mangerà da almeno un metro di distanza, il litorale sarà illuminato da oltre 15 quintali di fiammelle fornite in chitta e bagni dal comune di Pesaro dal proloco di Candelara, spettacoli di luce anche in acqua dove verranno posizionate circa 1200 candele distanziate di circa 7 metri l'una dall'altra. Insomma, questa è un po' l'atmosfera che attende i partecipanti di questa sera alla cena delle candele, e quindi, insomma, speriamo che vada tutto bene. Ubriaco invece da record al volante, autoscontro in strada, scende dalla panoramica con un tasso alcolico cinque volte oltre i limiti, carambola su tre macchine, perde una ruota e prova a scappare dalla polizia che però riesce a individuarlo. Guardate che cosa ha combinato e queste sono le fotografie delle auto che praticamente sono state danneggiate da questo ubriaco al volante. Il Doporoff, il Rossino Per Festival, c'è il consueto post-festival con un gala ristretto nell'atelier di Silvana Ratti. Sluck, futuro Figaro, fa strage di cuori. Solo 70 persone selezionate, su 70 ospiti selezionati a ricevimento, la padrona di casa dice un incoraggiamento per il festival. È una tradizione che non poteva mancare, dice, il ROF va avanti, la vita va avanti, e il festival è così importante per la nostra città che va sostenuto in tutti i modi possibili. E dunque, anche in questo caso, come vedete, si parla di tradizione, una tradizione che non si può interrompere, una tradizione che deve assolutamente andare avanti. Cambiamo argomento. Adesso la questione sulla quale torna con due pagine questa mattina il Corriere Adriatico della Fano Grosseto. C'è un tratto della Fano Grosseto in provincia di Pesurbino che è interessato da una galleria. La galleria che è andata più volte anche su Striccia la Notizia, sui media nazionali, perché è l'emblema di tutti gli scandali. è l'incompiuta, la madre di tutte le incompiute, possiamo definirla un po' così. E questa mattina si parla proprio di questa guinza, di questa galleria. Dalla segheria abusiva ai rev party, addirittura si facevano le feste abusive dentro questa galleria. Così la guinza diventò barzelletta d'Italia. Fano Grosseto nel 2012 il risvolto tragicomico della regina, eccola qua, regina dell'incompiute. Io ho detto madre, ma insomma la regina dell'incompiute ci sta, è giusto. Ed è ancora lì, ferma, con qualcuno che ancora dice, con coraggio poi, con convinzione, vedrete questa volta la Fano Grosseto si farà, la Fano Grosseto sarà una realtà. I soldi ci sono, eccetera, eccetera. Guarda caso, sempre però prima, qualche mese prima delle elezioni. E ancora c'è qualcuno che ci crede, gli dice, ah davvero sì, bene. Scogliere, il problema delle scogliere invece, qui siamo a Fano. Il 14 settembre, come assicurato dal vice sindaco di Fano, Cristian Fanesi, riprenderanno i lavori per la realizzazione delle ultime due scogliere di Sassonia. Anche nei giorni scorsi, le mareggiate hanno creato, infatti nei pressi della Battigia, uno scalino che ha vanificato tutto il lavoro di livellamento della spiaggia, l'abbiamo visto anche nelle immagini in diretta qualche giorno fa. Ebbene, adesso Oasi, che è questa associazione, Oasi con Fartigianato di Fano, che tutela gli interessi dei concessionali di spiaggia, fa pressing sul comune e cerca soldi per Torrette e Ponte Sasso. A Baia del Re si attendono un aiuto concreto. Poi al centro della pagina vedete la corsa con la Lega che riparte dal porto, qui c'è un momento dell'inaugurazione della sede elettorale di Mirko Carloni che lavora, che correrà per le prossime regionali con la casacca appunto della Lega. I servizi essenziali restino qui, Ospedale Unico e Santa Croce, Carloni invoca una profonda riforma sanitaria. Sugli impianti sportivi, siamo sempre sulla pagina di Fano, un poker di affidamenti con la Zengarini, nell'attesa resta l'Atletica Fano, insomma la pista aspetta lavori per 250 mila euro, intanto è stato confermato il contributo di 46 mila euro, il campo di Via Frusaglia ancora all'alma per gli allenamenti, Fulgor per tre anni, Aladini salverà. Insomma, si parla in questo articolo scritto da Andrea Maduzzi dei vari impianti, quattro impianti sportivi interessati dalla campagna di affidamento in gestione a società e associazioni. Il PD lascia macerie e i giovani se ne vanno, questo è il titolo del resto del Carlino, regionali, Carloni ha presentato la sua candidatura dopo Covid, crack, banca Marche, terremoto o ci rialziamo, dice Carloni, adesso oppure mai più. Sul fronte sanitario se vinciamo dobbiamo rivedere la convenzione firmata nel 2018. Variante di Gimarra scatta la protesta tutti alla Chiesa del Carmine, Dormicchi e Bellini dicono scelta inutile, insensata e distruttiva del paesaggio, Trave e Paleotta saranno devastate. Oggi c'è la mobilitazione, oggi pomeriggio alle 14.30 davanti alla vecchia Chiesa del Carmine per protestare contro la variante Gimarra su cui la Giunta di Fano intende investire questi 20 milioni di euro stanziati dalla Regione per favorire la viabilità verso Pesaro. A Pergola invece è un sinti di 57 anni che è stato preso con gli arnesi in mano il palo che scappa ma che poi è stato acciuffato e arrestato dai carabinieri arrestato anche il complice stava svaliggiando una casa rice trasmittente al collo indossava i guanti identificato tramite le impronte digitali. A Monte Ciccardo sarà election day si va al voto per la Regione per il Municipio i residenti dovranno indicare i loro referenti in seguito all'annessione nel comune di Pesaro. A Urbino dalla pagina di Urbino del Corriere Ministro serve un suo intervento disagi continui per la sede educale dell'Agenzia delle Entrate Cangini Luca e Giorgio Londei scrivono a Gualtieri aperta due volte a settimana solo la mattina per oltre 30 comuni forti ritardi nell'espletamento delle pratiche radici a sinistra ma in questo PD non mi riconosco parla la telegiornalista Ducale Lara Ottaviani in corsa con i civici di Forza Italia Ladro seriale tenta la fuga dalla finestra in seguito arrestato caccia il complice in un in carcere finito un 57enne sinti con diversi precedenti proveniente da un campo nomadi di Torino San Lorenzo e Frontone scatta l'allerta anti-covid ordinanza firmata da Dellonti che è il sindaco di San Lorenzo e invito al rispetto delle regole Tagnani dice occorre attenzione da Senigallia il Rotary toglie le barriere al mare porto e spiaggia sono adesso più accessibili inaugurata una pedana che consente di imbarcarsi e che deve muoversi sulla sedia a rotelle come vedete in questa fotografia e poi rubano una bicicletta e questo fenomeno che continua delle biciclette a Senigallia rubano una bicicletta per andare in un locale i ladri i baby ladri anzi quindi sono giovanissimi entrano in azione in via Raffaello Sanzio rubata pure quella di un bagnino che era in quel momento in servizio poi allarme ubriachi lo vedete in questa fotografia per ore sul muretto di un albergo a Senigallia un altro sabato notte di ubriachi sul lungomare ma nessuno in coma etilico ieri mattina invece è accaduto a quanti si sono recati al mare di trovare un ragazzo sdraiato sul muretto di un albergo pare stesse lì da parecchie ore nessuno sa se avesse bevuto molto di sicuro era così stanco da non essere riuscito a tornare a casa e quindi si è guadagnato un post sui social le pagine sportive prima di salutarci allora questo articolo è dal resto del calino nuovo corso Traini disegna il fano che sarà il responsabile dell'area tecnica parte dalle conferme dei possibili ritorni per costruire il gruppo piena sintonia con l'allenatore l'allenatore che è Marco Alessandrini la base l'ossatura c'è il mister ha chiesto di tenere alcuni ragazzi e lo vogliamo accontentare sul fronte della Vispesor invece sponsor tasse dimezzate bosco così respiriamo il presidente plaude alla misura che concede il credito d'imposta alle aziende intanto procedono i test con i tamponi oggi ce n'è un altro poi venerdì invece il terzo e infine la VL con la fotografia del Pullman la squadra pronta a salire sul Pullman per andare in ritiro ora et labora quindi fosse vero pure la preghiera sarebbe da vincere lo scudetto questa volta VL partita per l'Amoli la Carpegna Prosciutto ha lasciato ieri la città per andare ad allenarsi sotto la Bazzia domani dovrebbero arrivare Cain e Massenat dunque queste sono altre fotografie come vedete l'allenatore Jasmine Repegia con Walter Magnifico per lui un gradito ritorno insomma questo è lo sport e con questo noi chiudiamo qui anzi no mi ero selezionato un'altra pagina eccola qua e lo faccio molto volentieri perché abbiamo ancora qualche secondo la notizia che è sempre sul giornale di questa mattina ma non ha chiaramente risvolto locale ma è un bel segnale questa è Tania Cagnotto ai mondiali di Kazan 2015 fuoro nel trampolino da un metro poi altri 20 titoli europei un iridato due medaglie olimpiche insomma oltre che essere bella anche molto brava Tania Cagnotto lei che cosa ha detto sono incinta sono incinta di nuovo e quindi mi ritiro la campionessa azzurra annuncia sarò di nuovo mamma dico addio all'olimpiade di Tokyo ho scelto la vita e la famiglia e con questo ci salutiamo qui grazie per averci seguito ci vediamo stasera alle 20 e 30 con il telegiornale occhio alla notizia arrivederci grazie